sfida a cinque minuti vai maestro ok facciamo una piccola intro ragazzi quindi full screen ciao a tutti ragazzi in questo nuovo contenuto che porteremo su youtube oggi una nuova collaborazione stiamo andando contro il maestro ballotti luca del canale world chess hub faremo un vs il vs crudo la sfida con lui già sta iniziando quindi andiamo su scacchiera a vederla dai perfetto allora ha accettato la sfida noi e 4 grande 2004 e 18 per luca sarà una bella sfida dai io spero vabbè farà la birch sicuramente ok se spero abel sto tipo di posizioni così da maestro proprio ok queste qui tipo che mette il re in c7 ok mi piacciono questo tipo di cose per me diciamo vediamo però non lo so lui entra in questa posizione ha perso la rocco ma non ci sono le donne ovviamente vuole portarmi subito in un finale potevo doppiargli i pedoni si però ok b5 si fa cruda la cosa qui se mi prende il cavallo allora il cavallo qui non a casa no quindi se arriva così mi frega il cavallo ok quindi alfiere qua un po passivo però lui si sta organizzando bene i pezzi via tiriamo fuori i denti pinnuz tiriamo fuori i denti sempre tanto lo so che non mi sottovaluta peccato non vengo ormai non vengo più sottovalutato da nessuno allora questo è il mio alfiere forte lui lo vuole cambiare perciò tutti i pedoni su sull'altra cosa ovviamente non dovrei cambiare l'alfiere però posso anche lasciare la tensione e giocare centralizzando un altro pezzo che non che non gioca vediamo allora oppure cambio però migliora il cavallo se cambio quindi poi anche sacrificare questo alfiere per b5 non va quindi liberiamo la cosa ho visto ho mosso troppe volte sta alfiere campo chiaro però così cerchiamo le doppia intanto se lui mette questa io ho alfiere per scacco quindi ecco comunque ok e ci apre una linea che non è male ho tante debolezze nella struttura pedonale cerchiamo di essere crudeli però il problema è che stesso tipo di posizioni che prendiamo un tempo ci prende faccio questa no no il primo pedone perso diavoli vabbè 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 cerchiamo di giocare bene però sto tipo di posizioni sono la mia criptonite praticamente ma sto senza un pedone cazzarola però il suo ciò vedono i doppiati una serie di cose forse non c'è contro gioco sarà molto in vantaggio lui però ci proviamo raga questa è la prima di tre la prima ci si scalda sempre maledizione no che cacchiarola purtroppo se vabbè ovviamente ma ora ha giocato sta no non posso non posso cambiare pezzi non posso cambiare cose teniamo la tensione qua e che devi fa ma ora ha giocato sta variante perché si sente confidente però così è scacco però questo è tenuto ho poche mosse estremamente poche mosse da poter fare anche poco tempo mettiamo roba in presa spostiamoci dallo scacco e vabbè questa è persa persa vabbè ci proviamo ci proviamo comunque volevo andare su sto pedone crudo però no non si tiene questa non si tiene e quanti pedoni sto? due vabbè andiamo alla prossima son deciso vai andiamo alla prossima rivincita nota ok a posto raga avete visto quando ho abbandonato la barra stava a più tre quindi andiamo ad analizzare questa partita che è la vera occasione mancata io ringrazio Luca per aver accettato la sfida stiamo andando ci saranno altre due partite dopo di questa ma intanto facciamo una piccola analisi per farvi vedere com'è andata allora un secondo solo ok perfetto come vedete siamo sulla partita e andiamo a verificarla ho una ho una percentuale leggermente superiore la mia occasione mancata è stata proprio il fatto di aver visto una posizione con due pedoni in meno e aver voluto abbandonare un po' per rispetto un po' perché non mi andava era la prima ma dico vabbè la prima si perde e così ma ho sbagliato non si abbandona mai soprattutto se c'è ancora contro gioco come in questo caso è stata una bella doccia fredda ma comunque doveva andare così allora andiamo andiamo quindi e 4 questo tipo di impianti mi piace questa è la pirk decide di cambiare le donne e qua io mi sento abbastanza bene come vedete avete già visto la partita per cui faccio arrocco lungo andiamo avanti queste non ci sono errori da parte mia in questo tipo di cose questa è la prima imprecisione ok qui scacco prendo ok così errore grave questa la migliore vi sto facendo vedere l'analisi ragazzi al volo perché poi continuerà il video come vedete il mio rating è 2050 vediamo errore grave ragazzi allora stoppate il video e trovate la mossa che vince tanto non si vede a schermo vi do qualche secondo stoppate il video e trovate la mossa che vince il suo è un errore grave aver preso il secondo pedone che poi mi ha portato all'abbandono perché dico vabbè due pedoni non li recupero e invece c'è la mossa che vince ragazzi ovviamente lascio qui la mossa che vince raga io ho abbandonato qui ma pam non ha modo di tornare indietro o parare la minaccia della torre devi prendere per forza f6 e allora comunque staremmo una torre contro un cavallo poi non è vinta ragazzi però si sta a meno 3 qui dice la barra meno 2 8 perché ha comunque tre pedoni per una torre ed è pericoloso però me la sarei giocata obiettivamente quindi ringrazio Luca che dopo tutto dopo allora ringrazio Luca perché subito dopo la partita mi fa no cobra no cobra mi ha scritto c'era f6 ed ero in pericolo quindi grandissimo grandissimo adesso vi faccio vedere altre due partite giocate con lui io vi ringrazio sempre per seguirmi per apprezzare i contenuti del mio canale e dai festeggeremo insieme i 10.000 iscritti a brevissimo grazie a tutti e vi rilascio al video un'altra rivincita vediamo vediamo se riesco ad essere più ma no è fortissimo regà io ce sto a provare però tu carcola che c'ha 20 anni c'ha 20 anni è maestro quindi gioca da tantissimo in più cioè non è un maestro di quelli è un maestro forte ti gioca linee che comunque io ho visto poco ho giocato niente per cui non è semplice questa è una siciliana chiusa però con e mica lo so vabbè spingo di 5 uguale e via ciao buonasera buonasera vediamo se l'ultima riesco ad essere più incisivo vediamo buona suerte grazie Bjorn ringraziamo la suerte grazie suerte comunque bravo ragazzo se non lo seguite qui il cambio delle donne è sbagliato perché gli do pure la colonna poi andare contro un maestro senza le donne è come il suicidio programmato una volta al circolo una delle prime volte che andai al circolo gli scacchi lo stennis incontrai un maestro che mi disse le sue parole se incontri un principiante gioca prendi un pedone e portalo nel finale e vinci buonasera luca buonasera ragazzi sto giocando contro ballotti si si una cosa organizzata sto giocando contro ballotti e il ragazzo è molto molto forte conferma di essere un maestro forte bravo ragazzo al mio avviso da quello che ho potuto capire poi non ci conosciamo però a me mi sembra un bravo ragazzo quindi andatelo a seguire se vi capita il suo canale comunque ha tutti i presupposti per diventare forse uno di quelli più grandi e seguiti in Italia perché alla fine ha tutto punteggio forza scacchistica voglia di comunicare voglia di fare per cui cioè non si può dire queste cappero di spinte di pedoni mi danno un fastidio ma va arriva con F6 io lo sapevo gli ho lasciato F6 dovevo spingere io F6 no la prepara ok vabbè spingiamo noi e via posizione difficile per il nero il primo ha rusicato che stava a più 3,5 come ho fatto a più 3,5 e non rendemene conto però 3,5 di motore ragazzi 3,5 di motore no poi chi l'ha incontrato chi l'ha incontrato di persona comunque conferma che anche di persona è così a me sembra pure abbastanza umile per cui ma lui prepara questa e ci stiamo però voglio voglio liberare la colonna per la torre ok così se prende ovviamente sto pedone è pericoloso da prendere è pericolosissimo infatti infatti no adesso lo può prendere però non lo so oddio forse si può prendere gratis adesso si non c'è la scoperta cacchio con scacco è andato su da in pedone però quando perdo un pedone gratis regalo dico sempre ho perso un pedone gratis ma però le due colonne controllo io ho due bombe su su le colonne aperte la posizione non è non è ancora definita come persa lui contesta subito ma col cavolo che ti lascio il controllo di una colonna no questo cavallo in presa lo muovo questo cavallo il problema è che c'ho poche mosse è quello il problema c'ho un pedone meno e poche mosse è forte diavoli amari ok non c'è ok togliamo sto cavallo così forse questa a prendere spazio adesso visto che il cavallo protegge eh lo spazio non è non è il top però vedi che lui protegge subito qui cambiare l'alfiere a me non conviene però ha avuto timore di di alfiere c5 se no non si spiega comunque prendiamogli un tempo questo diventa una debolezza e lo sappiamo però però intanto gli allora qui questo buttiamo subito un alfiere però la posso pure la posso pure così intanto questo io lo isoliamo io ci sto a provare un minuto e 55 vediamo questa è l'ultima partita forse se non ci chiede un'altra rilincia io gioco a nastro ci gioco a nastro comunque è forte gioco a punti zero amichevoli greande senza paura e via quindi io pure ho fatto pure la recensione a questo canale ragazzi andatevelo a seguire quindi così così ok ha preso prendo prendo e il pedone mori prendo oddio e tanto male non è e tanto male questa non è e tanto male questa non è il cavallo la centriamo non gli lascio in questo tipo di posizioni una coppia degli alfieri su un cavallo forse sbaglio ma a me mi sembra che sta meglio poi questa mi sembra che sta meglio l'ho ragionata l'ho ragionata per prendere sto pedone l'ho ragionata qua ah su questa mi può mettere qui ok forse questa difende la seconda ma ci vuole fare un danno alla struttura pedonale sagace questo ho dovuto cambiare ho un danno alla struttura pedonale cavallo al lato non è mai buono però no ci arriva qui e fischiamo forte alpiere b6 fischiamo forte allora vediamo no così si fa il pedone passato 46 secondi ok questo la differenza è che sta molto meglio lui adesso me pure col tempo ma è maledizione amaro è amaro vabbè però questa me la so combattuta no peccato peccato questa ci avevo creduto diavolo vabbè grande grande luca grandissimo grandissimo oh un'altra così pia ma i migliori ti è mamma mia ci fa ci fa io non lo so io potrei potrei giocare solo quello che gioco bene però per il content ma no gioca me 4 gioca me 4 volevo giocare per il content qualcosa uh la siciliana ok vediamo se rientra in qualcosa che posso attacco canale variante di mosca questa pam ciao viaggio buonasera stiamo giocando con luca un forte maestro quasi maestro fide al canale world chess hub che tra l'altro ho anche recensito no non può farlo questa non c'è ancora che cosa mi sa perso qua così c'è la scoperta su su qualcosa no però f3 no così poi forse questa no non lo so eh marcellone ma devi sempre chiedere il perché di certe mosse obiettivamente allora f3 cementiamo tanto la donna tiene la la cosa mi sto a sforzare raga so stanco come un non lo so però ci proviamo comunque il fatto di giocare contro un maestro mi rende abbastanza contento di giocare contro un maestro una partita pure io prima sono arrivato quasi in un finale sono arrivato quasi in un finale prima stavo alla prima stavo a più 3 e mezzo abbandonato perché senza due pedoni non vedevo il gioco e vabbè però la prima è la prima è è così impediamo gli b4 lui mi vuole togliere il controllo di sta colonna comunque vabbè per adesso o mi vuole impedire cavallo b5 in qualche modo in qualche modo vabbè però c'ho la la donna sulla stessa riga del coso ci penso troppo non mi va di mettere sta torre qua quelle torre stanno bene lì questa eh vabbè certo marcellone che devi fa io non bevo caffè comunque no davvero non lo bevo allora vediamo pubblichiamo le migliori comunque oppure pubblichiamo tutto il video per la gente che magari se lo vuole vedere così eh ma lui fa bene a voler cambiare donne perché c'è una debolezza no questo non voglio cambiare donne eh però devo ok già che si è semplificata la posizione sto più tranquillo però quando si semplifica i maestri cominciano a giocare è quella la cosa è quella la cosa tengo un tutorial difende qua che non si sa mai se devo spostare qualcosa lui ha già vedi già protegge qua la forza del maestro è preoccupasse prima degli obiettivi d'attacco quindi lui già ha immaginato che volessi fa questa e questa e va a protegge e ci sta è ovvio che ci sta e lui la prepara però così non è un pedone non è un pedone isolato e io questo la difendo ok così ma lui c'è il pedone isolato non lo so raga c'è anche questo arretrato eh io devo avere entrambe le torri a difendere un pedone però oh l'attività dei torri è importantissima basta namo se prende qui sotto prendo prendo e poi prendo qui e lui ha un'unica struttura pedonale io ce n'ho due però c'ho anche una maggioranza sul lato di donna cioè in realtà c'avrei un pedone passato e infatti lui che fa cambia adesso io c'ho due obiettivi però stavo in un finale di torri è vero che lui sta avvantaggiato perché ha un'unica struttura pedonale io ne ho due però sono due grandi non ho pedoni isolati né altro quindi così così questo suo pedone isolato cioè un'unica col pedone isolato vediamo non dico che è però più aumento la possibilità di semplificare la posizione meglio è in apertura so d'avere giocato bene lo so d'avere giocato bene allora non voglio essere pretenzioso ma che è questa ok vediamo 1 minuto e 50 contro 1 minuto e 20 lui cerca di mettere la torre così io voglio avvicinarmi al pedone isolato vediamo c'ho meno spazio no in realtà non c'ho meno spazio è equivalente come spazio non lo so raga io in questo tipo di posizioni non mi non mi ha non mi addentro più di tanto figa questa è figa obiettivamente se sposto la torre lui poi mette torre e h1 per difendere il pedone quindi faccio così se congeliamo la posizione e vediamo beh sono bloccato in difesa lui c'è il tempo di andare con re e vediamo no doloroso doloroso no non c'ho cacchio lo vedi che dice la sciampedona impresa lo sapevo lo sapevo lo sapevo maledizione ci ho pensato non lo muovere lì invece niente invece nulla l'ho dovuta muovere per forza ma questo si potrebbe anche tenere come finale penso però io non sono in grado e c'ho poco tempo peccato no vabbè no vabbè perso pure quest'altro via peccato però fino a qui era pari fino a qua era pari no qui è 2 4 però qui è 0 0 ragazzi è 0 0 c'ero quasi riuscito c'ero quasi riuscito oh grandissimo Luca ma gli scriviamo